L'11 marzo scorso fu depositata una mozione per riportare il mercato del venerdì soccorso Maruccino. Giorni fa la richiesta di intervento al prefetto della Cioppa da parte degli autisti della Panoramica che sollevano problemi riguardo viabilità e sicurezza. L'intergruppo comunale, costituitosi nei mesi scorsi, chiede chiarezza alla maggioranza sulla questione mercato a Chieti. Pieno sostegno agli autisti della Panoramica che non hanno fatto altro oggi che rimarcare quello che noi già abbiamo evidenziato al prefetto. A seguito di questo abbiamo anche incontrato residenti, ambulanti e commercianti del centro che lamentano una diminuzione dei guadagni in virtù dello spostamento del mercato in via della liberazione. L'intergruppo conferma la volontà di far approdare in consiglio comunale l'argomento ribadendo come un futuro mercato nel villaggio del Mediterraneo sia solo un rimedio alla problematica esistente. La mozione chiede appunto lo spostamento del mercato in corso Maruccino ahimè è bloccata con un'attività ostruzionistica da parte dell'amministrazione Ferrara da circa due mesi. Non viene convocato il consiglio comunale. Oggi ho letto una dichiarazione stampa dell'assessore al commercio che definisce questa attività opposizione. In realtà non è una opposizione ma è una proposta che va discussa in consiglio comunale come previsto dal nostro regolamento.